Su questa Cayenne E2 restyling abbiamo installato un kit retrocamera in abbinamento al sistema originale PCM 3.1. Ora vi mostreremo il funzionamento. Nell'inserire la retromarcia il display commuterà sulla retrocamera ma cosa molto importante viene mantenuta la sagoma dei sensori di parcheggio originali quindi non perdo questa funzione. Il kit retrocamera inoltre è dotato di linee guida non dinamiche fisse ma comunque che aiutano in fase di manovra. Se vi interessa un sistema simile non esitate a contattarci io sono Andrea della SEL di Brescia il nostro sito è selcaraudio.com un saluto a tutti